Sei troppo vicino, un secondo ma no? Non ti sento la voce qua? Ok. Buonasera, per la serie Reddeltmarlin voglio farvi vedere l'ultima variazione che ho fatto sulla mia Vespa. Con l'aiuto del... E che cavolo, Anna! Per la serie Reddeltmarlin vi farò vedere l'ultimo regalo che ho fatto alla mia Vespa. Ringrazio Roberto Canonaco che mi ha aiutato a farlo. Adesso... Salve! Adesso mi sta qua a vedere il mio regalo. Allora, si tratta di queste due casse di derivazione nautica. Venga a camera, per favore. Qua c'è l'amplificatore. Accendiamo l'amplificatore. Prendiamo l'apposito cavetto. Lo colleghiamo con l'iPhone. E facciamo partire la musica. Questa riesco a sentirla anche quando vado a 100 all'ora. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto alla prossima puntata. Salve!